Un'installazione unica che rappresenta un inno al rinnovamento attraverso un'esplosione di colori pop e un'immagine semplice come la fioritura. Non a caso si chiama Flower Up, l'opera dell'artista visivo Emiliano Ponzi presentata da Glow, brand di punta di Bat Italia per i dispositivi Scaldastick, protagonista per il terzo anno consecutivo della Milano Design Week. L'arte è un territorio straordinario per trasmettere quelli che sono i valori della marca. In questo caso parliamo di positività, di dinamismo, di freschezza e anche di volontà e capacità di sorprendere i nostri consumatori adulti. L'opera, una delle più attese del fuorisalone, è esposta all'interno del Glow Hub, nel cuore dello storico quartiere Brera, tappa obbligata per tutti gli appassionati di arte e design in arrivo a Milano da tutto il mondo. La sfida è lanciare un messaggio ben preciso. Vuole trasferire un'idea di contaminazione, di una energia positiva ma non intesa in maniera banale, non essere positivi e allegri. Il contrario, provare a sospendere per un momento il momento di una visita e provare a lasciarsi andare alla meraviglia, anche cognitivamente. Per cui lasciarsi andare, lasciarsi contagiare dal colore, dal petalo che rappresenta il singolo, che moltiplicato diventa una moltitudine di persone. Se riusciamo tutti a tracciare un filo rosso di positività e a contagiarci l'uno con l'altro, forse avremmo fatto in quella giornata qualcosa di sensato e un po' importante. La collaborazione con un artista di primo piano, del calibro di Emiliano Ponzi, rappresenta un ulteriore tassello di Glow for Art, il progetto artistico itinerante lanciato da Glow con l'obiettivo di consolidare il proprio ruolo di mecenata dell'arte. È una tappa di un percorso che abbiamo già iniziato un po' di tempo fa, che segue quest'idea del mecenatismo, di cui Glow vuole essere portavoce. Mecenatismo che significa da una parte veicolare quelli che sono i valori della marca, ma allo stesso tempo farlo in una maniera che sia comprensibile. Questo è poi un altro elemento fondamentale di questo progetto di Glow for Art, tutte le opere che vengono realizzate dagli artisti che collaborano con noi vengono restituite alla collettività permettendo appunto a tutti di apprezzarne la bellezza e quindi di intercettare poi quelli che sono i valori della marca che attraverso queste opere cerchiamo di comunicare. È fondamentale avere dei mecenati, soprattutto per mia esperienza personale in questo caso con Glow abbiamo avuto carta bianca, quindi devo dire che mecenati ma anche mecenati illuminati sono fondamentali perché altrimenti non si potrebbero fare le cose.